Solo dieci giorni fa Novara festeggiava proprio qui la conquista del suo primo storico scudetto e qui si apre un nuovo capitolo di una storia probabilmente importante anche inizia quest'oggi che vedrà Massimo Barbolini sulla panchina di Igor Gorgonzola, un accordo triennale addirittura la volontà insomma è quella di scrivere una pagina importante. Sì sicuramente, sicuramente la volontà è quella di proseguire visto che si è arrivati già a un risultato eccezionale però è ovvio come tutti i grandi club non ci si accontenta sicuramente perché penso che il segreto dei grandi club dei grandi giocatori, degli allenatori è quello sempre di cercare di fare meglio per cui si sa che non è così facile soprattutto quando si arriva a certi risultati però l'idea è sicuramente quella di cercare di seguire un progetto che vada oltre appunto a quello che può essere un risultato ma quello di cercare di creare proprio una situazione che possa durare negli anni, a livello vincente anche se sarà molto difficile, si sa che è molto difficile perché come si è detto prima nel campionato italiano sta crescendo tantissimo, a livello europeo inutile dirlo ci sono veramente alcune squadre che sono autentiche e corazzate però penso che sarà molto molto stimolante a cercare di confrontarsi anche con queste squadre. Se la trova un ambiente chiaramente carico di entusiasmo, una società che ha grandi ambizioni che ha anche i mezzi importanti che nella pallavolo femminile italiana non è così frequente trovare trova anche una realtà che cerca di puntare molto sul settore giovanile, sulla costruzione di un progetto seguirà mi sembra di capire un po' anche questo percorso. Ma nel limite del possibile sì, nel limite del possibile sì in quanto si parlava oggi con Sor Giovanna appunto di cercare di fare ogni mese un incontro magari con gli allenatori del settore giovanile per quelli che possono essere così, proprio parlare, noi allenatori penso che il bello sia quello quando si parla di pallavolo senza stare purtroppo sicuramente a fare determinate situazioni in quanto io penso che sia difficile per un allenatore di A1 fare il direttore tecnico di un settore giovanile diventa molto difficile soprattutto se è un A1 di un determinato livello però sicuramente è quello che è la mia volontà anche perché a me piace questi incontri con gli allenatori, qualche volta allenamento con le ragazzine sicuramente è una cosa che faremo assolutamente perché è un dovere e anche un piacere per me fare queste cose.